Sono Biffia Alice, Product Manager della sezione Presentation and Collaboration all'interno di Comtec Italia, siamo un'azienda di seguiti ricci di prodotti audio e video professionali, parte di un gruppo europeo con sede casa madre in Germania e varie filiali dislocate un po' in tutta Europa e anche in Asia. Abbiamo inizialmente parlato un po' di quello che è l'azienda, di quello che è la nostra proposta sia in termini di tipologia di prodotti, senza fare una specifica menzione ai brand, ma comunque sono visibili tramite il nostro sito internet. Abbiamo presentato quella che è la case history di una realizzazione che abbiamo fatto insieme a un nostro installatore in Coca-Cola. Poi andando più nello specifico in quello che è la soluzione Barco Grishare, che è un po' un prodotto di punta che sta avendo una diffusione capillare nel territorio europeo e anche italiano in particolare, che è appunto questo sistema di condivisione di contenuti wireless che permette di avere un utilizzo di quella che è la realtà e l'esperienza della sala a riunioni molto più veloce e semplice, senza grattacampi tecnici e cose di questo tipo. Coca-Cola è sicuramente un'azienda conosciuta ovunque ed è stato facile diciamo scegliere perché hanno avuto un po' una visione delle cose simile a quella che è la nostra visione delle cose, quindi integrare diverse soluzioni, cercare di trovare qualcosa che fosse funzionale a quelle che erano le loro esigenze e è stata una realizzazione in cui abbiamo seguito passo 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 quello che è il nostro installatore e quindi abbiamo avuto anche parecchia soddisfazione su questo impianto.